Ciao, come stai? Benvenuto di nuovo a questa classe d'italiano. Oggi continuiamo a vedere il vocabolario, vediamo animali domestici e animali selvaggi. Allora, iniziamo a vedere un po' questi animali domestici. Abbiamo il gatto, il gatto, abbiamo il pelo e questo si chiama i baffi del gatto. Con il gatto il verbo è fare le fusa. Poi abbiamo il gattino, il cane, quindi con il cane il verbo è abbaiare. Abbiamo il cucciolo, guaire o uggiolare. Vi consiglio poi di approfondire questi verbi per capire il senso, quindi guaire o uggiolare. Poi abbiamo al femminile la cagna, quindi il cane, la cagna, vedete il simbolino, e abbiamo il cucciolo. Il veterinario, il collare, il guinzaglio. Poi abbiamo la zampa, tutto questo è la zampa e questo è l'artiglio. Infine abbiamo la cacca o la popò. Adesso passiamo agli animali selvaggi. Abbiamo l'elefante, questa è la zanna dell'elefante, la proboscide. La giraffa, il rinoceronte, la zebra, il leopardo, il ghepardo, il leoncino o il cucciolo di leone, la leonessa, la leonessa, il leone. Questa parte qua si chiama la criniera, quindi vedete la criniera è questa parte qua. Il ruggito del leone, poi abbiamo la iena, l'ippopotamo, il dromedario. Ricordiamoci un po' la differenza tra dromedario che ha una sola gobba, il cammello ha una doppia gobba. Infatti questa è la gobba, quindi quando abbiamo due si chiama cammello, uno dromedario. Poi abbiamo i primati, quindi abbiamo la scimmia, lo scimpanse, il babbuino, il gorilla. Infine l'antilope, l'antilope, la gazzella, lo gnù. Ciao, alla prossima!